La risposta è replica dell'interrogante, partiamo con l'interrogazione della collega Gribaudo che ha chiesto di anticipare. Prego se vuole illustrarlo, se vuole passare direttamente alla risposta del sottosegretario. Risposta, molto bene, grazie. Grazie Presidente. Ringrazio l'interrogante per quanto hanno chiesto di far luce della motivazione del ritardo dell'erogazione dei saldi di finanziamenti aspettanti agli istituti di padronato per attività svolta. Sul tema di istituti elementi informativi forniti dalla direzione generale competente del Ministero. Primeramente rappresento che nei mesi scorsi è stato istituito presso il Ministero del Lavoro delle Polizioni Sociali un tavolo con gli istituti di padronato in cui sarà invitato a partecipare anche l'Inps al fine di individuare soluzioni per snellire i passaggi burocratici e anche tramite la digitizzazione dell'interoperabilità delle piattaforme accelerando i tempi dei controlli e i conseguenti pagamenti. Occorre ricordare che gli istituti di padronato svolgono un servizio di pubblica autorità a cui sono affidati compiti strumentali e funzionali alla tutela anche costituzionali in materia di lavoro e previdenza. In considerazione della rilevanza del ruolo sociale assunto i padronati sono sottoposti ai sensi della legge numero 152 barra del 2001 del decreto ministeriale 10 ottobre del 2008 numero 193 alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con particolare riferimento alla gestione finanziaria e contabile e non destinata di di apposito a finanziamento per lo svolgimento delle loro attività. Le verifiche ispettive necessarie ai fini del finanziamento erogato dai padronati per l'attività svolta vengono eseguite ai posti rispetto all'anno di riferimento così come prevista dalla vigente disciplina di legge e se dal controllo effettuato vengono riscontrate in regolità e viene decurtato il punteggio aspettante. Il Ministero del Lavoro pertanto necessita ex legge dei dati relativi a dell'attività svolta agli istituti di padronato per garantire un'erogazione di fondi corrispondenti all'attività effettivamente svolta da ciascun padronato. Ci tengo ad evidenziare che il Ministero per favorire una visualizzazione delle procedure di erogazione delle somme è recentemente intervenuto costituendo in uno specifico riferimento alla Sicilia una task force degli ispettori di NL che stanno operando per portare a compimento delle ispezioni relative alla nonità pregresse. Con riferimento all'evocata mancata ottempranza delle sentenze si precisa come in vero il Ministero si sia sempre adeguato al dictum delle sentenze del giudice amministrativo adottando decreti di ripartizione dell'intera montale del fondo fatti salvi eventuali conguagli all'esito della definizione dei cinsali e dovute verifiche aspettive. Da ultimo con il decreto direttoriale numero 705 dell'8 novembre numero 23 sono state attribuite liquidate agli istituti di padronato delle somme a titolo di integrazione della prima anticipazione del 2022 e la somma di appartizione del 2022 e del conguaglio dell'anno 2017-2018. Grazie Presidente. Sottosegretario io le faccio le mie non so ecco sono in imbarazzo per lei rispetto alla risposta che ho sentito perché perché purtroppo avete ricordato ha ricordato nella sua risposta quanto è fondamentale il ruolo dei patronati quanto effettivamente sia complicato l'erogazione delle somme dovute ed è un ritardo che in genere è strutturale però rispetto a questa risposta anzi a questa non risposta io le pongo i dati precisi della mia interrogazione che evidentemente sono sfuggiti a chi ha scritto questo testo perché non risultano assolutamente erogate nessuna risorsa anzi aggiungo che sono stati fatti degli incontri con la Ministra del Lavoro in cui sono stati chiesti almeno di erogare per l'appunto la parte degli anni relativi al 2017-2018 ad oggi per la verità è stato ricevuto da parte dell'AMNIL quindi tra l'altro stiamo parlando dell'Associazione Nazionale per i Mutilati e gli Invalidi del Lavoro che hanno naturalmente come noto una estensione su tutto il territorio nazionale non solo non sono state erogate le somme dovute del 2016 e del 2017 ma soprattutto non ci risulta che ci sia l'intenzione di dare da qui a fine anno una risposta è una situazione oggettivamente paradossale e francamente ingiusta lo dico perché sono convinta che invece sottosegretario Durigon conoscendo il suo impegno anche a seguito di questa non risposta imbarazzante di questa interrogazione si possa no perché non risulta non risulta assolutamente che sia stato erogato nessuna somma queste sono realtà che rischiano di avere senza delle risorse a casa 600 lavoratori a fine anno a causa della situazione che si è andata a creare ricordiamo sempre qual è l'attività che svolge l'AMNIL cioè di sostegno agli invalidi del lavoro ai loro familiari di caduti sul lavoro di cui da 80 anni questa associazione ne difende il lavoro allora visto che sono stata al governo anch'io e sappiamo cioè ho sostenuto governi al governo mai stata abbiamo sostenuto governi glielo segnalo perché c'era stato anche diciamo così dei passaggi tra la ministra del lavoro e l'associazione e dalla lettera dalla risposta che lei mi ha dato la non risposta questa situazione si protrae e non vedo diciamo se non con un impegno ulteriore da parte del governo come si possa accelerare attenzione perché ripeto ci sono delle sentenze e c'è una situazione in cui forse se c'è un monitoraggio da parte vostra non dico tanto ma almeno un anticipo entro la fine dell'anno concludo presidente forse diciamo è uno sforzo che andrebbe verificato ulteriormente grazie prego il collega Mari se vuole illustrare o se vuole passare direttamente la risposta prego 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 sottosegretario Mari siamo al Mari 5 9 finale scusate andiamo alla Mari ecco la risposta se prego sì 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 prego grazie presidente ringrazio l'onorevole interroganti dopo aver posto l'attenzione delle importanti misure dell'anticipo pensionistico api sociale che il governo con la legge di bilancio nel corso della più approvazione del senato ha voluto confermare e prorogare per tutto il 2024 con condizioni caratteristiche quasi del tutto analoghe a quelle dell'attività del 2023 con specifico riferimento al quesito riguardante l'indulazione di ulteriori attività particolarmente faticose e pesanti ai fini del pensionamento anticipato posso riferire che il tema dell'aggiornamento delle professioni delle mansioni gravose già oggetto di primo intervento normativo nella legge 234 del 2021 è stato un punto di attenzione costante dei lavori dell'osservatorio della spesa presidenziale e dei tavoli di confronto con le parti sociali che sono stati più volte convocati più volte sono stati più volte convocati nel nel corso del 2023 tra l'osservatorio istituito a maggio scorso presso il ministero del lavoro delle politiche sociali avviato fra gli altri temi una riflessione anche una riflessione sulle figure professionali ad oggi non ricomprese ai fini del processo dell'accesso all'ave sociale mettendolo in relazione rispetto agli accostamenti distanziati fino al 2023 per questa forma di anticipo pensionistico ciò permetterà nel corso del 2024 di valutare ulteriori interventi per analizzare un'attuale patria di beneficiari di tale anticipo pensionistico in riferimento agli addetti di mansioni ritenute se gravose verificando nel contempo l'impatto della spesa previdenziale sui saldi di finanza pubblica anche in ottica previsionale di possibili ampliamenti e modifiche rispetto all'elenco codificato dalla legge 2234 del 2021 identificando ulteriori tipi di lavorazioni che devono poter trovare un accesso anticipato alla pensione e semplificandone anche l'idere amministrativo e accorciandone le relative tempistiche. Concludo pertanto ribadendo con massima attenzione del ministero del lavoro agli strumenti di flessibilità in uscita in special caso per le categorie dei lavoratori che svolgono occupazioni gravose caratterizzate da indici di rischio particolarmente elevato. Grazie e prego il collega Mari. Grazie. Come ha visto il sottosegretario è reiterata questa interrogazione. Ovviamente come puoi immaginare non finisce qui. Puntualmente torneremo sull'argomento perché è meritevole non solo dell'attenzione nostra ma assolutamente di un intervento del governo. Devo dire che ancora una volta nella risposta del governo anche se un po' tra le righe però si ammette che questo tipo di lavorazioni, quelle dei portaletteri sono, questo è riconosciuto da vari studi, sono da considerarsi particolarmente gravose, particolarmente usuranti e quindi cominciamo dal fatto che siamo d'accordo sulla costatazione, siamo di fronte a una sorta di ingiustizia in questo momento e al mancato riconoscimento per una categoria di lavoratori della possibilità di beneficiare degli anticipi pensionistici cosiddetti che tra l'altro lo dico a titolo non tanto personale ma personale e politico che hanno senso questi anticipi proprio quando si tratta di queste categorie di lavoratori. Se ha un senso l'anticipo pensionistico è nel caso in cui si riconosce a un determinato tipo di lavorazione e quindi di lavoratrice e di lavoratori che hanno quel tipo di lavoro una possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro. Da questo punto di vista devo dire però che per la seconda volta c'è l'ammissione di un problema, il rimando alla Commissione vorrà dire che a questo punto dovranno essere più frequenti che interrogazioni. L'ultima sono passati molti mesi, credo 8-9 e dovremmo fare con maggiore sollecito, diciamo così, con una tempistica più ravvicinata perché questa vicenda, lo dico un'altra volta, al di là delle posizioni va affrontata e va risolta. Grazie. Grazie mille. Abbiamo l'onorevole Sumauro, vuole passare alla risposta del sottosegretario. Sì, grazie Presidente. Passo a registrare l'atto sindicativo rispettivo per il quale l'onorevole interrogante chiede di quali iniziati di competenza si intendono di intraprendere in materia di infortuni sul lavoro. In proposito, sulla scorta degli elementi forniti alla competente direzione generale per la sicurezza del lavoro di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, si rappresenta quanto segue. In via preliminare mi preme ricordare che la salute e la sicurezza del lavoro rappresentano un tema di fondamentale importanza per il Governo che sin dal suo insediamento lo ha inserito nelle sue priorità. È stato infatti fin da subito istituito un tavolo tecnico della sicurezza del lavoro che ha anche obiettivo di elaborare delle proposte di revisione dell'impianto normativo vigente per rendere più in linea con l'attuale contesto produttivo. Quanto agli strumenti di prevenzione, è fondamentale l'attività di controllo rispettivo finalizzata al contrasto degli infortuni e delle morti sul luogo del lavoro. A riguardo, l'INL da sempre conduce un'attività di vigilanza nei settori produttivi ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore delle costruzioni con l'obiettivo di contrastare e ridurre gli infortuni del luogo di lavoro. Rappresento a tal proposito che dal mese di settembre scorso l'INL ha avviato una vigilanza straordinaria volta ad intensificare l'attività di controllo in indilizia e nei cantieri relativi a palti pubblici, avviati per la realizzazione dei progetti di efficientamento e di manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali realizzate nella rete ferroviaria e stradale, incrementando così la sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei settori così entrati ad alto rischio. Ritengo anche purtroppo ricordare che al fine di intensificare l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ci sono stati assunti tra il mese di luglio e settembre 2023 circa 770 ispettori, tecnici disegnati gli uffici territoriali del lavoro. Sul fronte normativo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro faccio presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha messo in atto già diversi interventi, come noto un primo pacchetto di misure di interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro è continuo nel decreto 48 del 2023, decreto lavoro, con cui è stato incrementato il fondo di sostegno per le famiglie e vittime di cavi infortuni della misura di 5 milioni di euro. Inoltre con lo stesso decreto lavoro è stato istituito il fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative con una dotazione di finanziari di 10 milioni di euro dell'anno 2023 e i 2 milioni di euro annui a decorere dall'anno 2024. Sul punto sempre del decreto lavoro prevede tra l'altro l'obbligo dei datori di lavoro di denominare il medico competente se è richiesto dalla valutazione dei rischi di quegli articoli 17 e 28 del decreto legge legislativo numero 81 del 2008. L'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri nonché le modifiche apportate dalla disciplina in materia di attrezzatura di lavoro. Comunico altresì che la legge del bilancio 2024 attualmente all'esame del Senato della Repubblica ha previsto un rifinanziamento del fondo di sostegno alle famiglie delle vittime infortuni sul lavoro prevedendo ulteriori risorse finanziate nel triennio 2024-2026. La prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle materie professionali costituisce anche un obiettivo strategico dell'INE nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico in tutti i settori lavorativi. A partire dal 2010 l'INE ha introdotto meccanismi di incentivazione per il miglioramento continuo delle misure di prevenzione e protezione attraverso bandi di finanziamento denominati bandi ISI. Ad oggi sono stati stanziati oltre 3 miliardi di euro e sono stati messi a finanziamento oltre 36 mila progetti di prevenzione. Con particolare riferimento al potenziamento dei sistemi informativi l'INE ha dichiarato che l'analisi dei dati contenuti negli archivi e nelle banche dati costituiscono una fondamentale fonte informativa per la prevenzione e per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislatura in maniera di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito l'INE ha sottoscritto QNL, una conferenza delle Stati e Regioni e delle province autonome, una convenzione per l'accesso ai servizi flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni, nell'ottica di una maggiore condivisione delle informazioni degli stessi contenuti nel potenziamento del coordinamento tra diversi soggetti coinvolti, attraverso azioni scuolte in sinergia nelle istituzioni operanti in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tra l'attività di prevenzione dell'INE è contemplata altresì la creazione e la diffusione di un archivio di soluzioni, procedure e buone pratiche per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nei cantieri temporanei o mobili. È di facile consultazione per i cittadini con l'obiettivo di migliorare la sicurezza nei cantieri edili. Tali buone pratiche infatti assumono sempre di più un ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili e possono contribuire in modo significativo alla riduzione delle infortune e delle materie professionali. In conclusione assicuro il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali continuerà a riservare con massima attenzione al tema della sicurezza del lavoro e del lavoro, della consapevolezza che il diritto del lavoro è il diritto alla salute, sono diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione. Grazie. Prego, Collega Sumoro. Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario per... Ringrazio il Governo per quanto esposto. Questa interrogazione nasce a seguito della la morte di Muhammad Ali Fatal Abdel Ghani, 28 anni, operaio edile, padre di una bambina di tre anni con una moglie che lascia, era partito dall'Egitto e come lui tante altre persone, operaie che nei cantieri edile continuano a lavorare, la morte tragica di Muhammad Ali Fatal Abdel Ghani rientra all'interno di un triste elenco che coinvolge oltre 886 infortuni con casi mortali, al 31 ottobre scorso e sono dei dati che richiamano la responsabilità di tutti noi. In particolar modo questa Commissione è dall'altra parte la ricerca di soluzioni in termini di coordinamento. di coordinamento perché quello che riguarda la questione e il tema dei infortuni sul lavoro penso che dovrebbe trovare tutti noi uniti insieme perché si tratta dell'articolo 1 della nostra Costituzione e questa architettura che è l'Italia è un'architettura che alla luce di questi dati ci dice che non gode di buona salute perché ogni morto sul lavoro è un pezzo di questa architettura che viene a mancare. Concludo dicendo che occorre coinvolgere le organizzazioni, tutte le organizzazioni all'interno di questa attività e provare a creare una sinergia che definirei un piano per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro a partire dalle scuole ma in modo costante coinvolgendo questa pluralità come è il caso di Mohamed Abdelghani di lavoratori che esprimono non solo l'elemento dell'appartenenza linguistica alla nostra lingua italiana ma far sì che vi sia anche una traduzione di quanto verrà messo in campo in termini di quanto il governo ha espresso e concludo presidente per quanto attiene a progetti da portare avanti per rafforzare il tema della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro ed è per questo motivo penso che mai come oggi ci dobbiamo unire al fine di dare una prospettiva capace di salvare le vite umane e non stare con questo elenco triste che dice che la nostra democrazia non gode di buona salute grazie grazie c'è l'interrogazione del collega Carotenuto vuole passare alla risposta? prego ok ci siamo allora l'interrogazione riguarda la sostituzione del reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione fatta dal governo Meloni ecco i punti principali del quesito allora il governo Meloni ha sostituito il reddito di cittadinanza con l'assegno di inclusione a partire dal 1 gennaio 2024 la ricaduta sociale è su circa 737.000 famiglie equivalenti a circa 1.600.000 persone non occupabili che rischiano di restare senza sostegno economico nel mese di gennaio dal mese di gennaio 2024 poi ci sono 300.000 circa occupabili stiamo riscontrando dei problemi di attuazione perché la domanda per l'assegno di inclusione richiede lo speed e manca ancora il visto la registrazione della Corte dei Conti per il decreto attuativo ciò mette in dubbio quindi l'erogazione dell'assegno di inclusione a partire da gennaio c'è poi una complessità nel liter della richiesta perché l'assegno di inclusione richiede l'iscrizione alla piattaforma SISL e la sottoscrizione al patto di attivazione digitale questo processo è complesso e presenta problemi sia a livello individuale che tramite i patronati in più riscontriamo dei problemi nel supporto della formazione del lavoro non ci sono informazioni chiare sul numero di domande accettate o su beneficiari effettivi dei 350 euro erogati per i corsi di formazione si accontezza però di numerose testimonianze di partecipanti ai corsi di formazione che non stanno ricevendo i 350 euro previsti quindi chiediamo e chiudo la pubblicazione di dati aggiornati sulle domande di supporto a formazione del lavoro e quante indennità sono state erogate rispetto alle domande e l'esenzione del pagamento dello speed per coloro in condizioni di povertà che fanno domanda della signora inclusione grazie grazie prego sottosegretario sì credo che la tabella sia stata data giusto prego sì la tabella è già stata data giusto ok grazie presidente gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le domande esitate dell'inferimento del supporto a formazione del lavoro a SFL nonché informazioni circa le modalità attuative della nuova misura dell'assegno inclusione ADI primalmente rilevo che sono state acquisite informazioni da parte delle componenti di direzione generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali e da ANPAL voglio poi assicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che non solo il decreto attuativo relativo alla modalità di presentazione di domande e di erogazione del beneficio ADI è stato pubblicato in gazzetta ufficiale in data 16 novembre scorso debitamente registrato la Corte dei Conti ma anche che in quella data è stata pubblicata la circolare IMS numero 105 recante le prime indicazioni della citata misura perciò come previsto e comunicato l'unio 18 dicembre si è dato avvio alla presentazione delle domande ADI onde consentire il pagamento del beneficio già a partire dal prossimo mese di gennaio la domanda può essere presentata sia in modalità telematica sul portale dell'istituto sia presso i padronati inoltre dal primo gennaio sarà possibile rivolgersi anche ai centri assistenziali CAF questo per consentire ai cittadini di poter ricevere l'assistenza necessaria e garantire pertanto l'accesso alle domande anche a coloro che siano sprovvisti di mezzi con la circolare IMS citata ci sono stati chiariti una serie di punti che è preciso anche in questa sede con riferimento al patto di attivazione digitale PAD propedeutico all'erogazione del beneficio oltre che l'avvio del percorso di inclusione sociale e lavorativa è prevista la possibilità di sottoscriverlo insieme alla presentazione della domanda e così di anticipare i tempi e permettere a valle dei controlli ai beneficiari che ne hanno requisiti di accedere al beneficio in tempi molto brevi inoltre mi preme sottolineare in particolar modo questo aspetto perché lo ritengo fondamentale oltre che un grande risultato che permette di dare continuità alle persone effettivamente in situazioni di disagio e povertà si è disposto che in fase di prima applicazione ferma restando la necessità dell'esito positivo dell'istruttoria preso le domande con PAD sottoscritto entro il mese di gennaio 2024 la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta nello stesso mese di gennaio 2024 in questo modo abbiamo ottenuto che non ci fosse per nuca attualmente per il settore di reddito di cittadinanza e con requisiti per accedere ai beneficiati alcuna soluzione di continuità tra con le due misure ne approfitto per comunicare agli onorevoli interroganti in dati a nostra disposizione delle domande adri che ci forniscono un riscontro al momento positivo e confermono l'assenza di criticità per inoltre delle stesse difatti in data 18 dicembre all'ora 17 risultavano trasmesse acquisite 52.000 domande di cui il 50% frutto dell'inserimento diretto da parte dei cittadini infine relativamente ai dati SFL richiesti dagli onorevoli interroganti dalle informazioni fornite da Ampal risultano presenti nei sistemi 49.656 domande accolte al netto delle quali decadute revocate per 44.588 domande risulta presente un patto di servizio mentre sono complessivamente 24.927 i servizi presi in carico che risultano avere una politica attiva in corso o avviata successivamente all'accoglimento della domanda SFL a tal fine consegno agli onorevoli interroganti della commissione la tabella fornita da Ampal regante i dati suddivisi per regione prego collega tortenuto allora domani alla camera termine i lavori d'aula e al senato finiranno invece venerdì per poi tornare al lavoro tra circa un mese il Parlamento del nostro paese per questo Natale lascia 4 milioni di lavoratori al di sotto della soglia di povertà e milioni di cittadini che prima potevano contare su un reddito minimo garantito condannati a vivere e non si sa bene cosa i numeri che ci state consegnando dal nostro punto di vista rischiano di essere prodromi di un disastro sociale ed troviamo francamente indecente il sadismo con cui state trattando le persone in difficoltà perché siamo passati da una legislatura di solidarietà di redistribuzione della ricchezza a questo che rischia di passare la storia per il record di noi poveri della diseguaglianza perché guardate parliamo di 50.000 dei 300.000 occupabili che sono stati coinvolti e non ci avete dato dati circa questo assegno circa le indennità pagate né addirittura ci avete detto niente circa lo speed che abbiamo chiesto di cui abbiamo chiesto di evitare il pagamento per chi evidentemente è povero e sta facendo richiesta e in difficoltà e sta facendo richiesta di un aiuto sociale e neanche su quello abbiamo avuto risposte questo è il risultato di una filosofia neoliberale dell'assunto paradossale che la povertà è una responsabilità individuale e non è il frutto di un sistema inefficiente ma non è vero che chi non lavora non vuole lavorare la verità è che nella stragrande percentuale dei casi chi non lavora o non può lavorare o non trova un lavoro con una paga dignitosa invece noi qua da domani per ricevere l'assegno di inclusione e il supporto a formazione e lavoro bisognerà vincere una corsa a ostacoli come se la povertà non fosse di per sé sufficiente come ostacolo a una vita dignitosa che pure vorrei ricordarvelo sarebbe un diritto costituzionale ci sono 734.000 famiglie voglio ricordarlo con disabili o minori o comunque in stato di povertà condannati a una trafila complessa con lo stato a complicare ancora di più il compito laddove la loro domanda di diritto al beneficio venisse accettata quindi sono scelte precise le vostre punire i poveri per il loro essere poveri e allora io vi voglio veramente chiedere di venire sui territori a dirlo nelle periferie delle grandi città venite a parlare con chi è della disperazione che ci scrive in tutti i momenti in tutti i minuti in questi minuti a chi vi dirà a causa vostra delle vostre politiche uno dei peggiori natali della loro vita ditelo ai vostri elettori che magari avete convinto con la bugia nel lavoro in cambio del reddito di cittadinanza deve concludere noi diciamo a questo governo che questo è un modo inaccettabile di comportarsi nei confronti di chi vive in condizioni di povertà e a coloro che si sentono abbandonati dallo stato a giusta ragione che siamo stati e saremo sempre al loro fianco grazie grazie no va bene no era solo sul tema non avevo capito sull'ordine dei lavori se mi posso permettere io rispetto al mese di ferie ora tutto quello che legge ma forse neanche il senato mi permetta perché ritengo che inizieremo di nuovo all'otto di gennaio e quindi allora è molto probabile che la prossima volta mi candiderò al senato perché grazie Tassinari vuole subito la risposta sì bene grazie io posso garantire che lavoro anche nel mese di dicembre io non ce l'ho un mese di ferie scherzi a parte sì ma lavoro quindi posso garantire grazie presidente passo a registrare l'atto sindicato ispettivo con il quale gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intende adottare per la tutela dei lavoratori dello stabilimento Meyer Melnoff Packaging ex farmografica di Cervia primariamente informo l'interrogante che sono state acquisite informazioni dalle competenti strutture del ministero del lavoro e del pubblico dei sociali nonché dal ministero dell'interno e dalla regione Emilia Romagna nel merito comunico che lo scorso 14 dicembre si è svolto presso la prefettura di Ravenna un primo confronto tra le organizzazioni sindacali e l'attuale proprietario dello stabilimento del gruppo Focaccia di Cervia impresa locale disposta a rilevare la società a riguardo la prefettura di Ravenna ha comunicato che il confronto dalle parti coinvolte è stato positivo in quanto è stata condiscontata la volontà di procedere nelle trattative per formalizzare in tempi brevi il passaggio di società nel momento in cui verrà acquisito il consenso da parte della dirigenza della società austriaca rappresento che gli interroganti con la società proprietaria ex farmografica si è impegnata a non dare corso alla procedura di licenziamento dei dipendenti essere disponibili a garantire retribuzioni per tutti i lavoratori coinvolti che come assicurato non cesseranno della loro mansione fino al termine dell'operazione del passaggio del ramo di azienda la regione di Mila Romagna sul punto ha dichiarato di aver partecipato al tavolo di confronto condividendo gli obiettivi di salvaguardia dell'occupazione e del mantenimento del sito produttivo concludo garantendo che il massimo impegno del ministero del lavoro e delle guide sociali che continuerà a seguire per quanto di competenza lo sviluppo della vicenda per trovare ogni possibile soluzione che salvaguardi il livello di occupazione grazie prego collega Sì ringrazio il sottosegretario per la risposta vedo che la questione è già l'oggetto di valutazione del ministero mi permetto di osservare che in questo momento mi risulta insomma che si è in attesa del consenso al passaggio da parte della società austriaca quindi nel limite del possibile mi sento di avvalorare e di suggerire anche un eventuale intervento per cercare insomma di agevolare il più possibile questo passaggio che sicuramente avrebbe un costo inferiore rispetto all'attuazione anche per lo stato degli ammortizzatori sociali rilevo anche che questa crisi aziendale ha gettato in forte preoccupazione un numero importante di famiglie per la comunità di Cervia che è circa 25.000 abitanti quindi 100 dipendenti significa una ricaduta insomma notevole nell'ambito economico e sociale del comprensorio e della comunità cervese quindi ringrazio per l'attenzione e auspico anche nel proseguo che si tenga conto di questa situazione grazie allora grazie abbiamo concluso ci fermiamo qualche minuto lì insomma c'è qualcosa che è Grazie a tutti.